Cavolo amico, ci sono maniaci sessuali in tutto il vicinato! Eh? Oh, e come lo sai? Questo sito ti dice dove vivono, e ne vedo circa 5 a distanza di poche miglia. Aspetta, cosa? Eh? Che succede? Si avvicinano, non so cosa... Cosa cazzo succede? No, no! No! No, no, qualcosa non va, non ha il minimo senso! Oggi parleremo di iscriversi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Potrebbe uccidere i vostri figli? No, assolutamente! Quindi, che aspettate? Fatelo!